eccomi cavallone cavallo allora non so dove sono sinceramente sto su un ponte allora adesso dobbiamo fare la missione principale cioè andare a prendere dell'erba per attirare il grifone galoppa cavallo dovevano anticelli ok uno di questi ti sei l'arborista dove c'è il punto qua dentro bussa dai ragazzi deve essere fuori i ragazzi ma devo usare sensi allora ok 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 è appena uscite ah ecco lo ciao ciao quanto è bello è lupi stan dove trovati k david ammazzò io tranquillo vai ragazzi eccoli frate porca truta ma cos'è lì se dove scappi frate è easy ok porca droga mi chiede mi chiede so can you show me where you found the milf guardians forse eccolo ma se ciò con la catina l'arborista allora sto cercando pincer vino perché ho come l'impressione che non ce l'abbia non ciò che ho visto che non c'è l'anno quando andranno al fiume va bene andiamo nel fiume allora qua è successo qualche scena del crimine anche attenzione abbiamo trovato un tesoro dei pirati chiuso e con i miei sensi da witcher posso trovare una chiave oh no oh lo spincer vino che fuoco di culo ho trovato subito infatti ho trovato l'erba senza volerla prendere sono un grande allora devo andare adesso ho preso lo spincer devo andare a tirare subito il grifone vieni qua cavalletto perchè lo chiama e se ne va dall'altra parte è sconfarsi ma teleported oh queste imprese sono più vecchie e profonde si la sono tre cagnoloni si si salta boom si si può ok ok ha fatto il salto questo qua ha fatto un altro salto la bestia la terra del grifone porca troia oh porca troia ma è morto ok e perchè è morto allora hanno ammazzato i tizi mi 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 direi secondo me determinate potrebbe essere una cosa perchè magari se è vecchio può darsi che i miei figli vediamo non so se è tanto poco ok vabbè andiamo a vedere la pesemiro il mio amico che cazzo sta facendo pesemiro? sta zappando ah non qua coglione stanno i tizi vabbè possiamo iniziare c'è ma sta un villaggio a fianco e tu chiami un grifone ok si vengo ragazzi dai potrei portare un ospite mia figlia attenzione attenzione oh attenzione porca truta ah il grifone non è morto allora ragazzi abbiamo un grifone da uccidere un grifone se ne sarà accorto che la pecora porca truta la pecora che la pecora non si è accorta no cancro ma cazzo pesce un grifone e non è no vabbè perciò la balestra frate effettivamente minchia sono un grande che di più felice che di più felice ma cazzo non è un impeccorcio sono un impeccorcio che di più felice ma cazzo i un iguardo che di più felice ce di più felice la che di più felice una cosa e tutti via che schivata no 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 vai vai nossa me apres tá è in s e and eh ho capito fra fra che cazzo è accaduto quindi c'avate lì però vuoi vicino al mulino la battaglia bella ah ti ho preso ma c'ha tenato un kank ah ah schivata schivata quanto è schivata signori di Twitch boom schivata schivata oh è diventato super saiyan che cazzo sta facendo via via che è morto boom è morto ragazzi F I'm sorry my friend you are dead dai ragazzi portiamo la testa di cazzo dai lo voglio portare tutto però non solo la testa va 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 trofeo pure trofeo signori di Twitch dai staccali la testa c'è un plastics forza cazzo è morto a casa soffione frate ehm f in cazzo cazzo Ciao, no no, what the hell is this? No, proprio cristiano Quindi per subito non hai disegnato Madonna del Signore What? Ho ucciso il Grifon Ho ucciso il Grifon Ma è un clown Eh, te ne ragiono, Cristiano, dai ragazzi Oh, sono grandi E' un clown E' un clown Siamo arrivati al livello 3 Abbiamo completato una missione Quindi direi Ragazzi è piaciuto perfetto Nel prossimo episodio non so cosa cazzo faremo Perché preabarate a lasciare bianco sul tetto con Vesemir Quindi attenzione ragazzi questa missione del prossimo episodio sarà epica Lasciate 400.000 mi piace perlomeno perché Comunque devo dire che se lo merita Quindi saluta Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao ragazzi